buonasera ciao scusa io ti avrei visto sui social e avrei due tre cosine vecchie che vorrei far valutare sono robe tue che avevi sì di mia nonna cose vecchie ok questo è un orologio 32 grammi e 51 lo legge anche tu 1202 1205 conto tondo bonifico istantaneo vuoi che ti faccio la prova dell'acido o ti fidi del mio testo infallibile grazie mi fa piacere poi un'altra cosa tu per caso fai anche consegne vendite online poi consegne si calcola che io ho qua su instagram sulle mie storie ogni giorno pubblico un po' di gioielli che faccio io che realizzo e poi ho il sito web quindi su instagram ogni giorno ci sono orologi gioielli gioielli se tu mi segui su instagram puoi vedere giornalmente pezzi nuovi e poi ho l'e commerce con alcuni prodotti sia in oro che in argento spedizione in tutta italia in tutta europa assolutamente sì ok grazie grazie grazie